In In Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv lo avete sentito dei titoli in apertura nel nostro Tg di oggi c'è la cronaca giudiziaria con il processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata ripreso ieri con un'udienza fiume dedicata al filone ambientale e al presunto traffico illecito di rifiuti tra il Cova, Divigiano e Tecnoparco tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito è ripreso davanti al Tribunale di Potenza il processo Petrolgate a carico di 46 persone e 10 società nell'ambito di due filoni d'inchiesta che gravitano intorno alle attività estrative in Val d'Agri e nella Valle del Sauro udienza iniziata con un applauso in ricordo dell'Avvocato Carlo Federico Grosso del Collegio Difensivo dell'Eni venuto a mancare recentemente a seguire l'esame dell'imputato Domenico Scarcelli responsabile dei servizi ambientali di Tecnoparco che ha respinto ogni addebito in relazione ai controlli sui rifiuti che venivano conferiti dal Cova, Divigiano l'attribuzione del codice CER rispetto al produttore ha detto e i codici utilizzati dall'Eni erano quelli contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione Basilicata a Tecnoparco prima di accettare i rifiuti facciamo verifiche documentali ed analitiche che sono qualcosa di diverso ha concluso Scarcelli è poi stata la volta dell'ingegner Filauro uno dei tre consulenti dell'Eni chiamati in aula dal Collegio Difensivo del Canesse Zampe per illustrare le loro controdeduzioni rispetto alle perizie alla base delle contestazioni formulate dalla Procura di Potenza sul presunto traffico illecito di rifiuti legato allo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività estrattive che secondo l'accusa avrebbe fruttato all'Eni un risparmio di decine di milioni di euro all'anno il perito ha prima illustrato il funzionamento del Cova di Vigiano per poi affrontare il tema delle acque di produzione e della reiniezione attraverso il pozzo Costa Molina 2 sulle emissioni in atmosfera il consulente dell'Eni che non ha prestato il consenso ad essere ripreso dalle telecamere ha invece giudicato parziali le conclusioni alle quali è raggiunto il perito della Procura in molti casi sulla base di quei soli dati l'Igiene Santilli non è stato in grado di verificare la correttezza delle motivazioni adotte dal Cova che spiegavano il superamento emissivo mi spiego l'Igiene Santilli vedeva l'effetto di un malfunzionamento cioè un superamento emissivo il Cova comunicava che quel superamento emissivo era stato causato da un certo malfunzionamento in alcuni casi questo malfunzionamento era visibile anche all'Igiene Santilli perché trovava riscontro nei dati del sistema del monetraggio delle emissioni ma nella prevalenza dei casi le motivazioni dei superamenti erano legate alle condizioni di esercizio degli impianti non alle condizioni di esercizio del camino quindi l'Igiene Santilli in quei casi riconosceva che non aveva la possibilità di valutazione della motivazione adotta dal Cova perché non aveva a disposizione i dati di esercizio dell'impianto Ancora i temi legati al petrolio è finito nel mirino di CGL CISL e UIL l'accordo raggiunto tra Regione e Total che prevede un piano di investimenti aggiuntivo i segretari Summa Gambardella e Vaccaro se la prendono con il presidente Bardi per il mancato coinvolgimento delle sigle sindacali sentiamo Mariolina Notar Giacomo CGL e CISL e UIL non spengono i riflettori sull'avvio della produzione del giacimento Temparossa della Totale a Corletto Perticara attenti alle mosse del governo Bardi in tal senso se la prendono con la regione che a loro parere non avrebbe dovuto scendere a patti sottoscrivendo l'accordo con la società francese su un programma aggiuntivo di investimenti per 50 milioni di euro in 10 anni critica la reazione dei segretari generali di Basilicata Angelo Summa Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro che accusano il governo regionale di mettere in pratica una strategia tesa ad oscurare le forze sindacali e a considerare il confronto con i corpi intermedi un appendice della democrazia la scelta di costituire un imprecisato fondo di investimento dicono è perciò da considerarsi una soluzione non concordata né discussa assunta in beata solitudine da regione totale senza il benché minimo confronto con CGL Cisleville che pure possono vantare in proposito il merito di aver costretto la compagnia francese a sedersi al tavolo delle trattative e ragionare sul lavoro tutela dell'ambiente e investimenti nel giro di pochi mesi continuano i leader di CGL Cisleville siamo passati dalla discussione sulla magna carta ai conciliaboli tra regione e totale con il rischio di creare un'ineata alleanza tra il custode dell'interesse pubblico e un legittimo portatore di interessi privati a parere dei sindacati con l'intesa a total potrà gestire a proprio piacimento la metà dei fondi non recependo alcuna delle indicazioni prospettate vale a dire investimenti per avviare la decarbonizzazione un piano per la tutela ambientale e il monitoraggio della salute e della sicurezza nell'ambito di un accordo di sito per regolare con equità i trattamenti salariali e le condizioni di lavoro degli addetti diretti e indiretti di Tempa Rossa e disciplinare in modo stringente i cambi d'appalto e infine un impegno concreto per favorire l'occupazione delle maestranze locali dei segretari delle tre confederazioni sindacali arriva l'invito al governo regionale a non scegliere la strada dell'autosufficienza nelle trattative segrete della propaganda autoreferenziale bensì a consolidare la prassi del confronto preventivo con il sindacato parliamo ora delle nomine degli enti subregionali tanti i nomi che circolano ma le trattative tra i vari partiti sono ancora in corso e l'ufficializzazione slitta alla settimana prossima facciamo il punto con Michelangelo Russo il buon vecchio manuale Cencelli non tramonta mai che si tratti di centro-sinistra o centro-destra sul tavolo dell'esecutivo Bardi arrivano le prime cinque di una valanga di nomine che dovranno chiudersi da qui a breve si tratta del direttore dell'Alsia l'agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura del direttore generale dell'APT l'agenzia di promozione territoriale dei presidenti del comitato tecnico regionale artigiancassa e del comitato di coordinamento istituzionale politiche del lavoro e infine dell'amministratore unico dell'Egrib l'ente di governo per la gestione delle risorse idriche della Basilicata le trattative all'interno dei partiti di maggioranza sono continuate fino alla tarda notte e non sono esclusi anche stravolgimenti dell'ultimo minuto la certezza però è nella quota partitica di ogni singola nomina almeno per questa tornata la parte del Leone dovrebbe farla Forza Italia a cui spetterebbe indicare i vertici di Egrib e comitato per le politiche del lavoro alla Lega invece andrebbe il direttore dell'Asia mentre per l'APT a indicare il nuovo direttore generale sarà direttamente il presidente Bardi si vocifera di un ritorno di Giampiero Perri o di Margherita Romaniello salvo nuovi napoletani in arrivo ha idea invece che proprio sulla questione nomine nelle ultime settimane ha fatto sentire e come la propria voce andrebbe la presidenza di Artigiancassa ma come dicevamo la partita è molto complessa e soprattutto è giocata più sui tavoli romani che su quelli lucani è scaduto intanto l'avviso per le candidature che riguardano le 19 nomine che spettano al Consiglio regionale e anche in questo caso è il caos con certezze quasi nulle per l'Allab il nome forte è quello dell'ex parlamentare Cosimo Latronico primo dei non eletti nella lista del materano di Fratelli d'Italia per le due Ater invece quella di Potenza viene indicata in quota Forza Italia e il nome che si fa è quello di Antonino Capuano per quella di Matera invece toccherebbe all'eghista Rocco Fuina quanto alle due Asi quella di Potenza sarebbe appannaggio di idea e a guidarla potrebbe essere l'attuale coordinatore Francesco Pagano quella di Matera infine vedrebbe in poll l'ex senatore Tito Di Maggio ma il puzzle è come dicevamo tutt'altro che chiuso e troppi pezzi sono ancora sparsi sul tavolo restiamo in tema perché la partita politica degli enti sub-regionali passa dalle mani dei segretari di maggioranza Liuni Moles e Caiata intanto il leghista Coviello ai nostri microfoni si dice estraneo alle scelte e tra le forze di governo non si escludono fibrillazioni sentiamo Alessandro Panuccio a decidere un tavolo ristretto composto da due massimo tre sedie agli altri il ruolo dei peones è il tema politico quello che più di tutti sta animando il dibattito sulle nomine alla guida degli enti sub-regionali una prerogativa dell'esecutivo Bardi chiamato a nominare oggi cinque di queste figure dopo una condivisione con la maggioranza consigliare ma a sentire autorevoli voci di maggioranza del parlamentino regionale non ci sarebbe stata nessuna condivisione tra chi ha preso le decisioni e consiglieri né sulle strategie per la selezione delle professionalità le decisioni infatti sarebbero state prese a Roma alla buvette del transatlantico dal coordinatore di Forza Italia Basilicata il senatore Moles e dal segretario commissario della Lega Lucana l'onorevole Liuni con la partecipazione del segretario di Fratelli d'Italia Basilicata l'onorevole Caiata infine il passaggio con il presidente Vito Bardi trattative top secret insomma tanto che a chiedere informazioni a consiglieri e uomini di partito la risposta è sempre la stessa non ne so assolutamente niente è quanto anche dichiarato a margine di un'intervista alla Nuova TV il capogruppo della Lega in consiglio regionale Tommaso Coviello la questione non me ne sono occupato personalmente perché se ne è occupata la segretaria regionale nella quale ripongo massima fiducia e posso soltanto dire che noi per dare un segnale di discontinuità rispetto al passato dobbiamo in un certo qual modo procedere anche in quelle che sono dove c'è una certa discrezionalità laddove è possibile a curriculum diciamo identici procedere nel senso di dare questi incarichi a persone di specchiata moralità competenti capaci e che possano naturalmente anche laddove è possibile anche di fiducia perché poi l'indirizzo politico amministrativo che viene dal Consiglio viene dall'Aggiunta possa essere seguito anche negli enti partecipati ma se Coviello resta fiducioso nel ruolo della segreteria alti esponenti di maggioranza difficilmente riusciranno a deglutire quell'amaro in bocca per una vicenda che non escluso possa provocare fibrillazioni e scossoni politici tra le forze di governo non c'è pace sulla Film Commission deserta anche la riunione del CdA di ieri la regione attende un passo indietro di le porace ed è braccio di ferro sentiamo Celestino Benedetto a tutti è parsa una chiara manifestazione della volontà politica di sterilizzare l'attività della fondazione e di invocare le dimissioni sia da parte del direttore pari delle porace sia dei due consiglieri di amministrazione ancora in carica Salvatore Verde e Antonella Pellettieri non c'è pace sulla Film Commission Lucana tra prima e seconda convocazione è l'ottava volta consecutiva che la seduta del Consiglio Generale dei Soci va a deserta convocata presso la Sala Bradano al quarto piano della giunta regionale si è presentato soltanto il rappresentante della provincia di Matera assenti la regione socio al 60% provincia e comune di Potenza e comune di Matera all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2018 e la nomina del Presidente dopo la scomparsa di Luigi Di Gianni in assenza della convalida del documento politico finanziario la fondazione non è nella condizione di poter operare se dimissioni non ci saranno la strada che si proverà a seguire tra pela da Viale Verrastro sarà quella del commissariamento straordinario per restituire operatività alla rifondazione che proprio nei giorni scorsi si è vista erogare dalla stessa regione il finanziamento annuale per il piano delle attività 2019 di 1 milione e 40 mila euro ma con una contraddizione il piano poteva essere anche bocciato dal canto suo forte del contratto stipulato e la cui scadenza non è certo dietro l'angolo l'eporace non è affatto intenzionato a dimettersi pronto anche a far valere le sue ragioni in altre sedi a meno di un accordo bonario tra le parti siamo alla cronaca Senise i carabinieri hanno arrestato un 56enne della zona deteneva una santa barbara di armi non denunciate all'autorità di pubblica sicurezza i militari hanno sequestrato 140 armi in gran parte da sparo tra cui 47 fucili 82 pistole 12 sciabole 22 baionette e persino un cannone risalente al dopoguerra l'uomo dopo aver ereditato parte di queste armi dal padre che ne aveva regolarmente denunciato il possesso ha omesso di darne comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza sono ora in corso indagini per stabilire l'esatta provenienza delle altre armi prive di matricola nonché la destinazione di alcune di queste risultate denunciate a nome del padre ora defunto e non rinvenute in possesso del figlio ed ora ci fermiamo per la pubblicità mettiamo le cose in chiaro la nuova tv è visibile anche a Matera informazione inchieste sport politica storie approfondimenti e tutti i colori della basilicata mettiamo le cose in chiaro a Matera risintonizza la tv per guardare in chiaro la nuova tv sul canale 12 e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro tg parliamo dell'emergenza cinghiali stamani a potenza il tavolo convocato dal prefetto annunziato Vardè per discutere sul tema cresce infatti il numero degli ungulati in regione crescono i danni che questi animali arrecano alle culture attorno al tavolo i presidenti delle due province il presidente del lanci Salvatore Adduce numerosi sindaci l'assessore regionale Fanelli serrato il confronto fra le parti di cui vi riferiremo nel dettaglio nella prossima edizione del Tg dal 4 al 6 ottobre a Matera il congresso dell'Unione Europea dei Gourmet e la presentazione dell'iniziativa in una conferenza stampa a Palazzo di Città a Potenza i dettagli nel servizio di Rocco Romanelli Dal 4 al 6 ottobre Matera diventa capitale europea del gusto per il 2019 l'Unione Europea dei Gourmet ha scelto la città dei Sassi come sede del congresso annuale promosso dall'associazione nata 25 anni fa per custodire le tradizioni enogastronomiche dei vari territori con l'intento di far conoscere le vandole di rango le antiche e tipiche ricette regionali promuovendo e diffondendo l'arte culinaria mediterranea i prodotti gastronomici ed i prodotti enologici visite guidate un convegno sul tartufo bianco e la consegna di una borsa di studio in onore di Adelaide Masella saranno al centro della Tre Giorni Materana cominciamo prima con una visita d'Altamura cattedrale romanica e la sera una cena a base di peatti murgiani il giorno appresso visita nei Sassi sabato mattina pomeriggio la nostra manifestazione che ha come punto più importante la borsa di studio da dare a uno studente del quinto anno dell'istituto alberghiero della città dove facciamo il gran convegno in onore di Adelaide Masella che era una gourmet ed è morta prematuramente quattro anni fa quest'anno premiamo una ragazza di Matera che ha fatto un bellissimo tempo un bellissimo componimento che ha come ogni anno il titolo di descrivere il menù di un giorno di festa della propria città e indicare anche le ricette domenica mattina all'altra del nostro congresso ci sarà il convegno culturale del tartufo bianco lucano con la partecipazione di bravissimi emeriti professori universitari e di Basilicata e italiani e siamo allo sport parliamo di basket si è presentata agli appassionati della pallacanestro la Basilicata Sport Potenza in vista dell'avvio di campionato di Serie C Silver in programma domenica il servizio di Luigi Santo Pietro il basket ad alti livelli manca da troppi anni nel capologo di regione ma quest'anno c'è una novità importante la Basilicata Sport Potenza che parteciperà al campionato di Serie C Silver con prima palla a due già domenica pomeriggio alle 18 al Palapergola contro la Folgore Nocera nei giorni scorsi la squadra è stata presentata nella sala dell'arco del comune di Potenza in cui hanno partecipato la presidente onorare Anna Bongiovanni il sindaco Mario Guarente l'assessore allo sport Patrizia Guma il presidente FIP Giovanni Lamorte e quello del CONI Leopoldo Desiderio a fare gli onori di casa il presidente Antonio Picarella che illustra il progetto Basilicata Sport reduce da due promozioni consecutive affidato a coach Vincenzo Bocchicchio le ambizioni per quest'anno sono importanti sicuramente quello di non fare una brutta figura di offrire alla città di Potenza un basket dignitoso anche se siamo una giovane società quest'anno abbiamo cercato di affiancarci a delle persone di esperienza come Mimmo Castellitto che insieme a Rocco Palazzo hanno potuto assemblare un roster di tutto rispetto con degli innesti importanti sui giovani di Potenza sui quali noi puntiamo e anche delle persone dei giovani che vengono da altre parti d'Italia Il roster è un mix di gioventù ed esperienza le novità sono gli stranieri Sehun Olaofe pivot di 2.08 e Daniel Bird 2.05 ai posti 3 e 4 in regia Edoardo Angius in difesa Caggiula Milo Bacchini esterno ed Enrico Illiano esterno di qualità Il roster è completato da Capitan Danilo Lorusso e poi Gabriele Ciardulle Eugenio Zaccardo Daniele Martella agli underpotentini Luca De Marca Giovanni Donofrio Francesco Savino Geneso Garripoli Eddi Pace Vincenzo Arcedio l'ander brasiliano Davi Volpini a illustrare gli aspetti tecnici e il DS Mimmo Castellitto È una squadra secondo noi costruita con un criterio nel senso che comunque voglio dire non con giocatori diciamo datati ma con giocatori che hanno voglia di emergere voglia di mettersi in luce e noi abbiamo puntato soprattutto su quello per i ragazzi che diciamo sono di fuori abbiamo cambiato un po' di cose per vedere il fatto che purtroppo in questo momento storico non abbiamo molti virgulti potentini che comunque voglio dire potrebbero potevano far parte di questo di questo roster c'è la pagina degli eventi in chiusura al via da oggi la quindicesima edizione del Bella Basilicata Film Festival già in mattinata gli alunni delle scuole del Marmo Platano hanno raggiunto il Cineteatro Periz per assistere ad una delle sette proiezioni selezionate dall'ideatore della rassegna Vito Leone e dalla direttore artistico Giacomo Martini nelle immagini la conferenza stampa di presentazione della Kermess in serata dalle 20 e 30 è previsto un doppio appuntamento ad inaugurare la Kermess la proiezione del trailer e del backstage del film lungometraggio diretto dal regista originario di Potenza Carlo Fusco parteciperanno alla serata l'attore lucano protagonista Gianni Alvino il produttore amministratore unico di Arifa Film Paolo Mariano Leone e l'amministratore unico di sviluppo Basilicata Nord Occidentale Antonio Alvino a seguire la proiezione di Lucania Terra Sangue e Magia di Gigi Roccati approdato sul grande schermo nello scorso mese di giugno incontreranno il pubblico del Periz il protagonista Gio Capalbo e Renata Di Leone della produzione del film l'ingresso al Periz di Bella è gratuito vi segnalo un altro appuntamento in chiusura Melfi Palazzo Donadoni ore 19 cominciano le conferenze su parole e parola nell'ambito del contributo dell'Arcidiocesi di Melfi a Matera 2019 ed è tutto per questa edizione grazie per la cortese attenzione buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.